Questa sera faremo un'esibizione con il gruppo delle cinture nere e con un gruppo di bambini dove i ragazzi dimostreranno che cos'è il Taekwondo in tecniche di combattimento, tecniche di calcio a colpitore e forme. Il Taekwondo oltre ad essere una disciplina olimpica è un'arte marziale. L'arte marziale insegna il rispetto per il proprio corpo, il rispetto per se stessi e per gli altri. Quindi non è un caso che tutti i bambini dai 4 anni fino ai 15 fanno promozione sportiva, partecipano alle esibizioni e partecipano anche alle gare agonistiche.